veniamo adesso alla seconda parte del video dove vi presento le automobiline che ho acquistato al mercatino delle pulci ieri nella giornata di pasqua devo fare una rettifica su quello che ho detto nella prima parte di questo video il mercatino che ho visitato si trovava si trova a milano ma non nel quartiere isola ma bensì nel quartiere bovisa quindi un quartiere vicino all'isola ma è un altro di fatto un altro quartiere cominciamo la carrellata con questa sub turbo maggiorette numero 284 che è stata prodotta tra il 1982 e il 1988 questa grigia metallizzata la versione è prodotta tra il 1983 e il 1984 sicuramente la vernice è tutta per il 50 per cento si è staccata però comunque la macchinina risulta ancora ben solida e trasparenti sono a posto le ruote vanno bene anche la base è ottima tra l'altro questa è una macchinina di una quarantina da anni fa quindi un buon acquisto e soprattutto una macchinina sicuramente da restaurare nel prossimo futuro questo modellino interessante perché mancava nella mia collezione di maggiorette vintage acquistate presso i mercatini delle pulci si tratta del magirus tipper track dovrebbe essere il numero 205 che è stato prodotto tra il 1978 e il 1983 questa dovrebbe essere l'ultima versione rilasciata il 1983 sono sempre una quarantina d'anni le condizioni non sono perfette soprattutto manca questa parte qua che chiude il carico però io ho visto su internet in plastica del modellino originale quindi si può anche pensare di ricostruirla con del polistirene per il resto il modellino non presenta grossi danni strutturali qualcosa va messo chiaramente a posto però direi che può essere sicuramente restaurato vedremo questa in queste condizioni terribili è la porsche turbo la numero 209 è stata prodotta tra il 1983 e il 2004 è stata questa pitturata di nero in modo posticcio sopra le vernice originale che secondo me era quella gialla si vede ancora il simbolo della porsche qua sotto e secondo me questa è la versione rilasciata nel 1983 quindi il first release anche per gli interni rossi insomma ho fatto un po' un'indagine nel sito della fandom sebbene sia una macchina di quasi 40 anni fa ha la base in plastica è una delle poche maggiorette degli anni 80 con la base in plastica e questa sicuramente chiede un restauro e vedremo prossimamente che cosa si può fare questo è un modellino che sono particolarmente contento di aver trovato si tratta della maggiorette reno safran la numero 221 prodotta tra il 1992 e il 1997 questo è proprio il first release prodotto tra il 1992 e il 1995 sono molto contento di averla trovata perché assolutamente mi mancava questo modello nella mia collezione di maggiorette peraltro a parte la vernice che in alcuni punti è chiaramente saltata via però le condizioni sono ancora buone i trasparenti sono a posto le ruote sono a posto la base va bene ma soprattutto queste parti in plastica qua davanti i fari anteriori e questo pezzo di plastica arancione posteriore che forse non si vede benissimo sono presenti sono intatti e quindi questa è una macchina che si può direi facilmente rimettere a posto questa è una maggiorette dannata si tratta della ford capri numero 251 prodotta tra il 1978 e il 1983 questa è il modello questa rossa con il tettuccio di plastica bianco è il modello del 1981 quindi diciamo una macchinina decisamente vintage la struttura come le maggiorette di quel tempo è ancora perfettamente solida le sospensioni vanno benissimo le ruote girano perfettamente la vernice quasi tutta scrostata peraltro qua questo danno di un materiale di dubbio provenienza di dubbia natura che non preferisco non toccare e comunque insomma niente di grave si può aggiustare gli unici problemi che ho identificato io sono in questa parte in plastica che si vede male qua però è un po' danneggiata e manca poi il il gancio un pezzettino del gancio dietro però nulla di grave credo che si possa in qualche modo correggere la base invece è assolutamente perfetta ultima macchinina dell'otto non è una maggiorette ma bensì una matchbox la formula 5000 la numero 36 prodotta tra il 1975 e il 1983 questa con questi non sono decals sono degli sticker con l'omino il pilota di colore giallo è la versione prodotta tra il 1978 e il 1980 tra l'altro questa me l'hanno non ho neanche acquistata me l'hanno regalata avevo comprato 5 maggiorette da un espositore e questa al prezzo di 5 euro ci ha aggiunto anche questa quindi mi è venuta fuori gratis però è una macchina molto bella una matchbox direi ancora in discrete in discrete condizioni e quindi insomma un regalo quanto quanto mai un regalo di pasqua quanto mai gradito grazie a tutti